Continua il lavoro della provincia di Teramo per trovare soluzioni per i 1200 alunni del convitto del liceo delfico, ma nel frattempo sul fronte del ricorso presentato per richiedere il dissequesto della struttura, si è in attesa della relazione del team tecnico composto da tre ingegneri di fama nazionale che hanno condotto una serie di prove all'interno dell'edificio per valutare la sicurezza dei materiali e la resistenza a eventuali movimenti del sottosuolo. Sì, i tecnici stanno terminando le ultime relazioni, siamo in attesa del loro elaborato che sarà sicuramente a supporto del ricorso che l'avvocato presenterà al procuratore. Siamo fiduciosi anche perché abbiamo attivato ogni tipo di soluzione, quindi quella di rientrare al delfico ma quantunque non fosse anche di rientrarci parzialmente. Nel frattempo a Teramo il dibattito cittadino si accende intorno alla cosiddetta scuola giolli, una struttura temporanea che la provincia intende costruire per rispondere all'emergenza scolastica e garantire spazi per gli studenti del delfico. Sì, stiamo valutando degli spazi per non separare l'edificio, cioè per non fare in più zone di Teramo, di Teramo città, questo edificio scolastico. Quindi stiamo valutando definitivamente se possiamo mettere in un'unica zona, combitto ed edifici scolastici. Questo potrà dare una soluzione sia per la viabilità pedonale, quindi l'accessibilità dal centro, perché la grande valutazione è quella di rimanere vicini e prossimi al centro, la seconda è quella di non stravolgere troppo i servizi, la viabilità e soprattutto i trasporti pubblici. Individuata l'area, quanto tempo ci vorrà poi per l'installazione proprio dei MUS? Allora, non saranno dei MUS, ma sarà una scuola innovativa, tecnologica, un polo all'avanguardia, quindi abbiamo anche cambiato il target per dare ai ragazzi una scuola nuova a tutti gli effetti. I tempi sono circa di 7-8 mesi se facciamo convitto e 40 avole, però puntiamo ad avere il convitto nel giro di due mesi e mezzo, massimo tre. La costruzione della scuola Gioli è vista come una risposta non solo all'emergenza scolastica, ma anche come un'opportunità per agevolare i prossimi appalti di riqualificazione delle scuole cittadine. Sì, è una struttura che comunque potrà servire come scuola alternativa a tutti i lavori di eseguire anche nelle altre scuole, quindi il Montauti, poi l'Ipsia Marino e iniziare quel grande polo scolastico nella zona tra via San Marino, quindi una scuola a tutti gli effetti, una scuola sicura da un punto di vista sismico, una scuola efficiente da un punto di vista energetico, ma soprattutto con tante innovazioni.